Ragazzi oggi EMOM workout, ormai siete esperti, every minute on a minute, modificato, parte iniziale ci sarà degli addominali, addominali come oggi mountain climbers, poco più di 40 minuti, cominciamo! Vi dico solo che è tutto, tutto mountain climbers, sono tutti esercizi diversi di mountain climbers, prima di partire ve ne voglio fare vedere solo uno, che quando vi dirò I.O. climbers, sapete che è questo, ok? Quindi invece che fare il portato da qua, lo facciamo muovendo, se non riuscite lo fate classico, tosta oggi eh, ve lo dico già, oggi è tosta! Ma a noi piace quando è tosto, 30 secondi da riprendere 4 volte, vediamo se l'ho messo bene, 30, 4, 4, 15 secondi, 4 cicli, perfetto Bomberos! Si parte il primo mountain climbers classico! Vi siamo? 30 secondi di mountain climbers classico! Dai che comincia! Dai 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 che si parte! Si vola oggi, si vola! Si vola! Si vola! Si vola! Flavio i pini! Dai 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 dai, sono 2 minuti di lavoro! Tutto il mountain climbers! Ovviamente ogni 30 secondi cambia eh ragazzi! 5, 3, 2, 1, cross mountain climbers! Quindi da un lato all'altro! con il ginocchio! Malato quadro toccando il gomito opposto! Dai! Hop! Dai! Dai dai dai! Ancora 15 secondi! Oggi vi fate sudare! 10 secondi! Dai Bomberi! 5, 5, 3, 2, 1, cross mountain climbers! Non facciamolo troppo veloce oggi! Che dopo vi avremo semplicemente portate avanti un piede e poi l'altro! Dai! Hop! Dai 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 continua! Non morri mai! Sono 2 minuti così! Sì! Della serie! Buongiorno! Come stai? Come farsi odiare di prima mattina e domenica! Che bello! Jumping sumo! Guardi indietro! E vado avanti! Hop! Dai Bomber! Come andiamo? Dai dai che ci siamo! Hop! 12 secondi! poi hai una pausa! Continua! 3, 2, 1, pausa! Come state? Si parte subito eh! Volevo il cuore! Così! Mountain climbers nuovo! Ci siamo? 3, 2, 1, vai! Mountain climbers! Non mollare mai! Dai dai! Qua farete tutti i campi alle braccia eh! Stiamo 8 minuti di esercizi in mountain climbers! Dai dai dai! Dai che mi sugli amico! 5 secondi! 3, 2, 1, mezzo barbis! Dai! Hop! Hop! Andate al ritmo vostro! Dai 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 bomber! 15 secondi! La riferente tra mezzo barbis che è quello che abbiamo fatto prima è che prima i piedi vanno vicino alle mani! Qua rimangono dietro! Dai uomo ragno! Spiderman! Come va la bombe? Dai dai dai! Dai dai dai! 10 secondi ancora! Non mollare! 3, 2, 1, mi stai fermo in pranta! Se non riesci lo prendi già di palma! Questa se vuoi per te è la prima palma! Un po' più lunga! Dai! 3, fermo in pranta! Mandiamo un attimo giù il cuore! Ancora 15 secondi! Dai 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 dai! 10! Dai! 6! 3 secondi! 1! Ora pausa per tutti! Gli altri ne hanno fatti 45! Noi ne facciamo solo 15! Ora slalom climbers! Cosa vuol dire? Vado avanti e sul lato! Ok? L'importante è che andate anche un po' avanti! Se no non va! Hop! 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 Dai! Come stanno le braccia? Sono a pezzi? Pezzi grelli! Dai dai dai! Non si molla! 5 secondi! 3, 2, 1, dopo! Open arms climbers! Aprite le braccia un po' di più! E fate niente in climbers! Come si molla! Come si molla! Super! Come si molla! Dai 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 dai! 12 secondi! 12 secondi! È durissima ragazzi questa! Madonnina! 5, 3, 2, 1, su! per me, statico, fermi così, recuperiamo un attimo, durissima, sapete come l'ho chiamato? crazy arms, il nome direi che dice tutto, dai 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 dai, 5, 3, 2, 1, donkey climbers, dai, le braccia sono parecchio faticate, dai, dai dai ragazzi, non si molla, 5 secondi, 3, 2, 1, l'ultimo è addombe, classico, dai, cominciamo con dei crunchi classici, come va? vieni a terra, crunchi, dai dai, non mollare, ancora 15 secondi, ti ho spiegato, vai, col crazy arms, ok, è tutto mountain climb, semplicemente, dai dai dai, 5 secondi, poi fai il crunch, gambe 90, vai, cosa dobbiamo fare in mountain climb, quindi ripiata, ancora, 12 secondi, continua così, il bomber non molla, dai, 5, 3, 2, 1, extended climb, braccia, tipo gara di kid, quindi davanti, e faccia il mountain climb, dai, non c'è bisogno che vai a minimo forte qua, eh, basta che me lo muori, dai dai, 10 secondi, 8, dopo mi fai il strike to side, non dai climb, 3, 2, 1, è l'ultimo, destra e sinistra del tappetino, dai, ci sei quasi, sei quasi alla fine, continua, dai che non molli, c'è un caldo allucinante, 15 secondi, dai, 10, dai, 10, per la fine, dai, dai, bombe, 3, 2, 1, pausa, pausa, uh, non è che era massacrante questo, che idee, io l'ho un grande vantaggio, ieri sera, sono andata a correre, sono andata a canna, ero da forza, o meno, fate, o due sabato di papo, 30 secondi di lavoro uguali, per tutti facciamo quell'esercizio, dopo, nei secondi, 30 secondi, quindi per comporre il minuto, dovete fare 5 ripetizioni dell'esercizio chimico, direi molto easy, eh, molto easy, bambolotti, dai, il quale sale, ma noi non facciamo salire e partiamo, il primo, il primo, per 30 secondi, plank, touch, uno, vuole quella buona, vai, plank, touch, top, 30 secondi di questo, eh, dai, toccatevi bene, i piedini, top, top, dai, bombe, ancora 10 secondi, finiti questi 10 secondi, hai 30 secondi, per fare 5, mezzi, partis, ora, ne fai 5, al tuo ritmo, il bene dell'emo, è quello, che ognuno ha il suo ritmo, io li ho fatti, e il resto, per arrivare ai 30 secondi, è recupero, 5, metti, paris, hai ancora, 10 secondi per farli, le direi che al primo giro, sei abbastanza easy, il prossimo è, sai, plank, crunch, crunch, destro, quindi, ti metti qua così, e mi fai 30 secondi di questo, hop, 30 secondini, dai, 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 sai, praticamente adesso, a metà, hop, dai, ancora 10 secondi, trulla, 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 5, 3, 2, 1, hai 30 secondi per fare 5, lateral bump, dai, hai 30 secondi per farlo, per cui, puoi andare al tuo ritmo, dai, continua, io ne ho fatti 3, 4, 5, mi sono avvantati 10 secondi, e vado a fare slide, plank, crunch, sinistro, dall'altro lato, vai, di questo, 30 secondi, hop, continua, continua, dai, vai avanti, non mollare, 12 secondi, hop, ancora 8, ci sei quasi, 3, 2, 1, hai 30 secondi per fare 5 spider push up, ovvero, spider, spider, push up, spider, spider, push up, vai, spider push up, io sono a 4, manca 10 secondi, bene, si riparte, plank, touch, 30 secondi, vai, plank, touch, 30 secondi, dai bomber, avete capito, no? il concerto è questo, 30 secondi di lavoro, di un esercizio, negli altri 30 secondi, dovete fare 5 condizioni, di un esercizio, più siete veloci, più recuperate, più siete lenti, meno recuperate, però magari non lo sapete, 5 e mezzo di barbie, 2, dai, qua sono più veloce, perché voglio tenervi un pochino più di recupero, il caldo è folle, ieri quando sono riuscito a correre, era caldissimo, 10 secondi ancora, andiamo a fare il side plank crunch, così, se non riesci a fare anche il crunch, mi fai un side plank classico, quindi, su e giù eh, come vuoi, se sei stanco, vuoi cambiare, dai, 3, dai, no scusate, ancora 10 secondi, hop, hop, dai, 5, 3, 3, 2, 1, 5, lateral bantis, in 30 secondi, fatemi il vostro ritmo, dai, 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 hop, hop, io sono a 3, tu sei bombe? dai, ancora 10 secondi, e facciamo side plank crunch dall'altro lato, come state bellezze? chi si sveglia bene oggi, dai, side plank crunch dall'altro lato, ma è arrivato un po' lungo, per salutarvi, dai, hop, 15 secondi, non mollare, devi cercare di avvicinare il gomito col ginocchio eh, dai, 3, 2, 1, 5, spider push up, vai, spider da una parte e dall'altra push up, spider da una parte e dall'altra push up, dai, dai supereroi, hop, se ne mancano 2, ho finito, ho 10 secondi di paura, ora, intraduciamo, un 20 di 10, 20 di Wolfie, qua, così, seduti, su una segnolina che non esiste, ci guardiamo negli occhi, e parliamo, ragazzi dai, continuiamo, continuiamo, dai dai dai, 3, 2, 1, pausa, perché c'è un tabata, da 3 minuti, in mezzo, qui avete 20 di 10, via, squat, hop, oggi facciamo tutto il corpo eh, di braccia, le abbiamo già fatte parecchie, però direi, cosa vi dite? vi è piaciuto? il crazy abs? è un nuovo circuito che adesso vorrei introdurre, ovvero, pausa, il prossimo squat jump, ovvero, un modo per, fare, dei mini circuiti da 2 minuti, partiamo, squat jump, dei mini circuiti da 2 minuti, in cui andiamo a massacrare, in una parte, focalizzandoci sempre, su quella tipologia di esercizio, ok? però facendoli diversi, così almeno non ci annoiamo, chiaro che, pausa, stiamo partiti col piuttosto, di nuovo wall sit, perché il mountain climbers, è uno dei piuttosti, via, seduti, wall sit, via a guardarci, ovviamente non potremmo farvi 8 minuti, di solo mountain climbers, perché, non avrebbero retto le braccia, non è tanto per l'addome, dai, 3, 2, 1, pausa, il prossimo squat, per cui vi ho messo del plank, vi ho messo del crunch, ma la maggior parte, che era molto incline, squat, dai, hop, hop, dai gobelos, allora, aggiornamenti, sul samurai, Niccolò Pace, che ieri ha detto, domani, li massacriamo, ho detto, beh, pausa, questo mi sembra al minimo, ci alleniamo solo 3 volte, le 3 volte che li vedo, bam, come le tasse proprio, bam, squat jump, dai, 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 il primo, di 3, dopo questo è finito, dai, 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 continua, continua, ci sei quasi, pausa, hai 50 secondi di pausa, come stiamo andando, come stiamo andando, ragazzi, sto sudando, come un porco, come state, ma sono tutti quei cuori, 25 secondi, poi parte, il secondo giro di Egon, non mi sembra, se tu vuoi, poi, mi sembra che tu vuoi, ma non mi sembra, ciao, porcini, ora, due shoulder tap, uno, due, due push up, posti le braccia, ve le stampo un po', eh, dai, 2 shoulder tap 2 push up 2 shoulder tap 2 push up dai buongiori ragazzi ma l'avete vista la pagina instagram le bimbe di cotto ma guarda bella ragazzi vediamo ora avete 30 secondi per fare 5 push up ognuno al suo ritmo se lo vedete si fate come me col salto quello si chiama il push up del bomber o il push up del dentista perché poi dopo mi spaccate i denti e mi faccio i dentini nuovi ora spinge più push up quindi spinge vado su push up a lui spinge vado su vupush up spinge vupush up spinge ho dai viaggiamo fortemente in Egitto dai dai mamma che questo prende marcia è massacrante pausa non è vero 5 dai dai 1 dai dai gioiellieri i gioiellieri i gioiellieri i gioiellieri come il finanziere scappare 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 e adesso in un circuito parte alta perché questo piccolo emo era sulla parte alta poteva poteva mancare i o dai su 30 secondi di donkey dai esperti che oggi le braccia le buttate c'è rotamazione ho fatto una convenzione dai per rotamare le braccia dai su ora hai 30 secondi per fare 5 push up protection vai 1 ogni lato è 1 2 cioè scusate il totale è 10 ma sono 5 per lato dai qua praticamente non avete pausa perché ci vogliono tutti e 30 per fare si riparte 2 shoulder up più 2 push up questo è stancante perché lo andiamo tutto a pallo praticamente dai 2 shoulder up 2 push up dai crumoni manca solo 10 secondi dai 5 dai 2 1 ora hai 30 secondi per fare 5 push up o il push up del dentista dai mi faccio prendere le braccia se no poi ci vado io del dentista a fare questa cosa ora spinge più push up fai ancora 10 secondi ragazzi levo bam la seccata la gamba tesa spinge e bu push up dai spinge e bu push up dai pomperanti dai dai che non si moda mai non mollare mai non mollare mai dai ho 1 1 ingiogneriere hai 30 secondi per farli eh quindi ricatto un secondo dai devi farne solo 5 ragazzi durissimo aver fatto un mountain climber che ci ha spaccato le braccia o le costa manuelo moviamo dai i oh via hop i oh dai dai schnelli non mollate non mollate si va avanti tutti assieme fino alla fine hop hop 10 secondi dai dai tornerieri asinelli spingi un secondo adesso 5 push up in rotation contiamo le 5 basta dai però non abbiamo il piano 3 4 dai push up con il destro ora è tapata 20 10 20 di lavoro 10 di pausa rimettiamo dietro le gambe squat in out ok via squat in out squat out questo sono 20 secondi eh qui avete 10 di pausa dai 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 siamo la tv su date il culo molla mai 2 1 pausa sumo squat uh 3 2 1 dai sumo squat andate al vostro ritmo ringhiatate un attimo dai dai 10 secondi ne mancano 5 dai pausa sumo squat 180 sumo mi giro dall'altra parte lo ricordate? guardate vado giù sumo giro 180 sumo 180 dai ho troppo calo dai 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 5 secondi non volate uno pausa squat in squat out come va? via squat in out ho ho dai 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 10 secondi continua 3 2 1 pausa sumo squat uh state stanti? dai 2 1 sumo squat hop su e giù su e giù i piedi sono proprio belli aperti a 45 gradi eh e vado su e giù dai vai sempre se sudi meglio ieri sera hai bevuto sicuro lo so già se non hai bevuto ieri hai bevuto ieri l'altro pausa stigamente bevi solo con tutti i gin toni che ti ho offerto ti ho messo il briato dai sumo 180 hop dai sumo 180 dai 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 bombe bombe e dai e bombe dai dai pausa lo chiamavano bontà la volta scorsa non mi mettevo le pause lunghe voi mi avete detto stiamo male oggi vanno messi tranquilli tranquilli ora avete ancora 30 secondi di pausa e cominciamo col terzo giro di emo sempre braccia e gambe abbinati da un po' dal body è la festa della mamma ricordatevelo io ho fatto i torpini 3 2 1 si riparte 2 tornando alternando il braccio 2 3 dai due il comando due blind deck due il comando dai che le braccia le frulli oggi non ricordo chi è che mi ha detto ma fatti le braccia non lo facciamo mai eccoli qua servito dai 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 pausa che vuol dire 5 spider nine push up in 30 secondi sempre emo quindi braccia avanti e indietro push up braccia avanti e indietro push up dai abbiamo ancora 10 secondi che avete già fatto? avete un po' di pausa dopo 30 secondi di break del ser dopo vuol dire adesso dai dai mi piace il dopo vuol dire adesso potrebbe essere una moto frasco molto più male dai 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 5 secondi è costo lo so ma tu sei piuttosto ora dai 30 secondi per fare 5 spiderman e twist spiderman e twist plant dai spiderman twist plant dai dai chi ci sei? e ne ho fatti 4 e ne ho fatti 5 e ho 5 secondi di power doppia coordinazione doppia coordinazione nap-lam vuol dire sollevo braccia e gambe opposte dai dai braccio sinistro gamba destra braccio destra gamba sinistra dai continua solleva sempre in maniera alternata non deve andare non deve andare velocissimo ne devi solo andare dai 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 ora 5 brum jack 5 brum jack trattengo finisci di stare come si fosse da 10 lanza hai ancora 10 secondi come va? si suda? si riparte dai hai 2 comando 2 plan jack via 2 comando 2 plan jack 2 comando dai dai 2 plan jack vai a comandare dai dai come lo vatti hop dai 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 5 secondi ora 5 spiderman col push up vai vai come va? sei stanco? no ancora 10 secondi break dancer dai 2 1 break dancer dai che non ce la fai più basta che rallenti un po' il ritmo eh non c'è bisogno che il break dancer lo fai a camina basta basta farlo ognuno ha il suo ritmo se hai un ferrari vai come un ferrari se hai una panda vai con la panda ma tranquilli anche chi è una panda ci arriva lo stesso 5 spiderman 5 5 displan a volte chi ha la panda si goda di più il percorso di quello che è il ferrari che sono io a guardare chi lo sta guardando è che sono ferrari quindi si entra lo stesso dai hop dai 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 doppia coordinazione hop hop 30 secondi eh dai 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 adesso non ho nulla quanto per il calasferrari era un esempio ragazzi mi raccomando non prendetela se vuoi mi insultano i ferraristi dai adesso 5 black jack 3 4 5 5 black jack saltello dai dai sei quasi alla fine pausa per 10 secondi e poi andiamo in tabata che calore ragazzi che calore il tabata è così 2 jumping jack 2 squat normali eh 2 jumping jack 2 squat dai 2 jumping jack e 2 squat vai 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 hop hop pausa il prossimo è raro nell'altro singolo quindi da qua vado su ok vai hop tutto come una gamba eh tutto come una gamba perché poi dopo facciamo con l'altra dai 8 secondi non molli 3 2 1 pausa altra gamba altra gamba bombe stanchi? no eh dai via altra gamba forse è la stessa scusa 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 ma ti dicevo lo stampaci tre non ho cambiato la gamba hop 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 dai 3 2 1 pausa 2 skip scusate 2 jumping jack 2 squat andiamo ci siamo dai 2 jumping jack 2 squat 2 jumping jack e 2 squat dai 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 sei alla fine dell'emom sei alla fine dell'emom sarai ben felice no? stai sudando di tutto di più stop farai nel lancio con una gamba runner lancio con l'altra e anche dito l'emom vai runner lancio con una gamba hop saltendo vai con una in su se non riesci che hai solo la fondo posteriore se sei molto stan io le gambe mi sono un po' frullate perché ho borsa parecchio questa settimana pausa runner lancio con l'altra 2 1 si riparte dai con l'altra gamba hop non mollare ti voglio carico sei qua con me ti do la carica io sono sudato che faccio schifo tu probabilmente non sarai da meno pausa abbiamo finito ma non sento nessun applauso è perché noi siamo bomber o perché ti voglio fare ancora un papagno fate i calcoli 9 minuti di crazy abs 28 minuti vien 28 più 9 37 se non abbiamo almeno 43 non sono felice di che colore è la felicità 3 secondi di supermenù con gambe e brazza se parte 40 20 2 supermen push up 3 secondi di supermenù si va dai vai via dai 2 supermen push up 3 secondi di supermenù 1 2 3 dai supermen push up dai 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 supermenù 1 2 3 ci siamo dai dai supermen push up e supermenù su push up supermen push up supermen adesso mi fai 5 secondi di supermenù così femmo fino alla fine pausa di 10 secondi di secondo mandiamo un po' sul cuore come se non fosse già su 2 jump squat 4 jumping jack dai 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 che mi voglio vedere frullati così frulliamoci via 2 jump squat 4 jumping jack dai dai belli hop hop su che il cuore torna a battere dai 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 rendiamo questa giornata meravigliosa con una bella sudata di prima mattina dai hop continua continua ci sei quasi dai 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 bombe pausa vi avevo detto venerdì stampate la mia foto per tirare i pugni e adesso è il momento di tirarla fuori 2 sit up and punch 2 bicycle pugni apporto al lente dai si tappa il punch 1 2 2 bicycle hop 2 si tappa il punch dai hop 2 bicycle complete resta sinistra resta sinistra si tappa il punch si tappa il punch dai 2 bicycle si tappa il punch si tappa il punch si tappa il punch 3 bicycle hop manca 5 secondi i pugni e quanto al lente ti piacciono? pausa ora facciamo uno skip che ho rinominato lo skip del biscotto qual'è lo skip del biscotto? è quello che lo vado a prendere sulla credenza quello che è nascosto dai skip braccia alte o skip biscotto dai 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 ormai c'è il nuovo fitness il fitness secondo corpo al lente sui nuovi termini creiamo un vocabolario il nuovo vocabolario del fitness il nuovo tra i cani facciamo il nuovo corpo al lente dai 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 skip biscotto dai 10 secondi 8 continua l'ultima da dietro dai vado a prendere l'ultimo biscotto pausa ti sto guardando ti sto guardando ti sto guardando barbis 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 alternato a jumping jack faccio un barbis e due jumping jack vai barbis uno due barbis uno due dai hop è barbis e due jumping jack la velocità la velocità la scegli te non ti posso dare il ritmo se no rispondi ficando dai ognuno va al suo ognuno va al suo barbis e jumping jack io non ti do il ritmo ma ti do la carica ma è la manetta dai barbis e jumping jack tre secondi dai pausa superman dinamico facciamo fare un po' così al cuore un minimo ne manca due questo è l'ultimo questo è uno dopo che sarà l'ultimo superman dinamico braccia e gamba tese le gambe tese ma non solo le braccia avanti e indietro anche le gambe sono sollevate eh cercate di tenere i denti compatta tutta la parte superiore il movimento è come se aveste la latina della machine in palestra quindi potete anche tenere chiuse le mani come se la stessa stesse afferrando ok dovete fare fatica io la sto facendo e non chiuso di avere una schiena meno muscolosa o pronta della vostra quindi se la sto facendo vuol dire che dovete farlo anche voi ultimo e poi tutti in pace l'ultimo ve lo annuncio qua guardandomi negli occhi barbis tutto barbis ognuno ha suo ritmo dai su quel cuore sul cuore ma vai a manetta sai che gli ultimi 40 secondi che ti separano dalla doccia dalla fatica dall'essere morto dai dopo mi ricordo che ha messo giorno e metta facciamo una line cooking dai vi faccio vedere come fare il tono in trosta dai dai 8 secondi continuo ancora 3 2 1 bang nice work great great workout ti leggo una frase poi vado a farmi una doccia che devo preparare il pranzo abbiamo detto workout dedicato alle mamme che alla festa della mamma care mamme le madri sono gli unici cioè le madri sono gli unici lavoratori che non vanno mai in vacanza un applauso tutti per la mia un applauso